Ciao a tutti, io sono Ilenia e anche oggi vi presento un tag, ossia il libro risponde. Leggerò le domande direttamente dal canale di Steffi1986 perché è stato ideato da lei e quindi mi sembrava giusto citarlo, comunque ve lo linko giù nella descrizione del video così lo vedete. Cosa consiste questo tag? Consiste in scegliere uno o più libri, aprirlo a caso e scegliere una parola a caso. Sono dieci domande, io ho scelto due libri, ossia il storia di una nata di libri di Marcus Zusak e Hunger Games di Susan Collins. Ma via con le domande non ci spieggiano in più. Questa parola indica la tua personalità. Iniziamo con Hunger Games. Passo. Vabbè, non so cosa questo significa. Vediamo Marcus cosa ci dice invece. L'altro di libri, perfetto, sono io. Eccomi, presente. Seconda domanda. Quale parola indica ciò che desidero? Questa volta con Hunger Games ho un po' paura. 50 metri, sì, desidero 50 metri. Va bene? Vediamo Marcus. Vediamo. qualche chilometro. Sì, ragazzi, perché dovete sapere che a me piacciono queste cose. Cioè, è veramente ciò che desidero. Sì, davvero, giuro, giuro. Terza. Quale parola le dedichi? Perfetto, entrambi i libri vanno benissimo. Questa domanda. Iniziamo con Hunger Games. Con. Sì, sì, proprio. Andiamo a Marcus. Una pausa, sì, ci sarebbe una pausa. Questa parola indica la tua sfera sessuale. Sì. E io? Vabbè, vabbè. Ok. Lo sai. Lo sai. Vabbè. Questa parola indica ciò che non ti accadrà mai. Speriamo che sia una cosa positiva. No. È molto severo. Ok. Erro ebrei. Beh, adesso non è che è molto negativo essere ebrei, però. Questa frase sogni di tatuartela. Bellissimo. Sono quello di Capitol City che odio. Tenne solo uno strumento, ma vi rinunciò poco dopo che io rifiutai di imparare. Ok. Questa frase è quello che faresti in cambio di ricchezza immediata. Mettoni i musi sul corno, fiutano e tassano il metallo, rastrano la superficie con le zampe e poi si scambiano a tutti i guai e poi si scambiano a tutti i guaiati. Sì. E poi c'è anche il salto, più alto di quanto credi. Sì. Che posso andare a fare il salto in alto. Meglio di così. Questa frase la userai per abbordare. Speriamo. Sputo le bacche, pulendomi la lingua con le estremità della camicia, per assicurarmi che non resti del succo. Sì, che gioia. Parlò nuovamente a quello straniero lontano. Lo suppicò. Questa frase rappresenta il tuo futuro. Oddio. Oppure anche qui. Armo l'acqua, ma la freccia finisce per uccidere un ipido che non può essere artiche e thrashy. Vediamo. Rosa ha detto che leggevi per me due volte al giorno, certuni di più. Bene. Le domande erano queste. Io non mi sento di taggare qualcuno. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Vi invito a iscrivervi al canale. E vi invito anche a recuperare il primo video che ho fatto. Ve lo linko giù nell'info box. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao. 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 Grazie a tutti